Buon aggiunto Matteo, segretario FIOM Provincia di Salerno. Noi stamattina abbiamo attivato un'assemblea per quanto riguarda la vicenda Reghi. È da circa 13 mesi che l'azienda ha decurtato, senza nessun rapporto con i sindacati, circa 180 euro sui salari reali dei lavoratori. Proprio in questo momento dove ci sono delle problematiche economiche e quindi una profonda crisi economica, questo non doveva essere fatto perché si va a ingidere fortemente sul bilancio familiare e sulle preoccupazioni familiari. Abbiamo più volte cercato di riuscire a parlare con l'azienda Reghi Multiservice ma purtroppo negli ultimi due mesi questo non è stato possibile. Si sono chiusi in un mutismo irreale e non ci rispondono su nessuna alternazione. Avevamo richiesto più di una volta di cercare di superare delle barriere ma attualmente non abbiamo avuto nessun tipo di risposta. Noi chiediamo, nonostante tutto, un incontro sempre con i vertici della Reghi ed anche della provincia di Salerno che è proprietaria al 100%, cioè in house della provincia di Salerno, un incontro per cercare di, prima di tutto, di verificare e quindi riuscire a risolvere i problemi che ho elencato prima ma anche per il futuro di questa azienda di dare certezze ai lavoratori anche perché è da ribadire che nonostante tutto, nonostante le difficoltà che ci sono, i lavoratori con la loro professionalità lavorano anche in mancanza di materie che la Reghi per problemi economici non fornisce, i lavoratori continuano a fare il loro lavoro. Quindi noi chiediamo certezze. Sono Antonio Davico e sono dipendente di Reghi Multiservice. Siamo qui stamattina riuniti sulla sede della GGL per discutere le problematiche inerenti alla situazione della società che con delle scadenze che ormai sono importanti sono alle porte, la direzione di questa azienda ma ancora non dà spiegazione ai lavoratori e sui tagli che sono stati effettuati e sui futuri minacci di nuovi tagli che dovranno esserci. La cosa più importante è quella che è destinata per il futuro di questa azienda. Praticamente con la dismissione dei consigli provinciali delle province quale sarà il futuro dei lavoratori e dipendenti di questa azienda. Siamo qui per vedere quali interventi mettere in atto per la tutela e dell'occupazione all'interno della Reghi Multiservice. Abbiamo un incontro con una rappresentanza dei lavoratori della Reghi Multiservice che erano e sono preoccupati del loro futuro rispetto appunto alla vita che avrà la società e rispetto soprattutto a un servizio che offre sul territorio della provincia di Salerno. Si è rimarcato e si è evidenziato una irresponsabilità dell'amministrazione provinciale, dei vertici della società, all'orquanto negano ogni forma di incontro con i dipendenti e non danno nessuna indicazione di sviluppo e di prospettiva per quelle società. Il responsabilità che ovviamente si accompagna alla latitanza rispetto a una serie di interrogativi che rimangono ancora risolti. Noi chiederemo come Partito Democratico nel Consiglio Provinciale di domani che si stabilisca una data precisa nella quale dovranno partecipare appunto i rappresentanti dell'ente provincia, della società, con la rappresentanza dei lavoratori affinché si faccia chiarezza su qual è il percorso da definire con i lavoratori e qual è il futuro della società e soprattutto come si intenderà assicurare un servizio sul territorio provinciale che riguarda come sappiamo e come sapete la manutenzione delle strade e la gestione della manutenzione degli istituti scolastici che come ben si sa rimangano ancora tra le funzioni della provincia fino a quando appunto non saranno rideterminate.